Si è parlata di toponomastica, di vie che mancano nel paese di Partenico, il gruppo dei Fratelli d'Italia è un'idea? Sì, più che il gruppo dei Fratelli d'Italia, devo dire la verità, è una delle due emozioni che abbiamo presentato in Consiglio Comunale che sono state intanto portate avanti dal gruppo Consigliere dei Fratelli d'Italia e poi anche sposate da altri consiglieri dell'opposizione. siamo stati stimolati un po' dal gruppo di gioventù nazionale, dei ragazzi di gioventù nazionale che ci hanno invitato a presentare una mozione per intitolare una via alle vittime delle foib. Visto che ormai è una data comunque riconosciuta anche a livello nazionale in cui si fa il giorno della memoria, si commemorano le vittime delle foib, quindi il 10 febbraio, ci sembrava opportuno intanto sposare questa iniziativa dei ragazzi di gioventù nazionale e chiedere all'amministrazione di impegnarsi affinché una nuova via, quindi senza cambiare il nome di una strada piuttosto che un'altra, fosse intitolata alle vittime delle foib. Mentre l'altra mozione che abbiamo presentato è quella di intitolare una strada al compianto Fratelli Biaggio che comunque ha fatto conoscere la Sicilia per le sue iniziative lodevoli e quindi almeno una volta tanto non per le iniziative di mafia o di delinquenza, ma la Sicilia è conosciuta nel mondo grazie alle opere di beneficenza di Fratelli Biaggio e quindi ci sembrava opportuno anche in questo caso chiedere all'amministrazione se si potesse intestare una via anche al compianto Fratelli Biaggio. Una domanda cattiva la facciamo, ma c'è compattezza in questa opposizione? C'è Fratelli d'Italia dove ci sono idee diverse? Perché vediamo che c'è uno scollamento. No, allora intanto diciamo laddove ci sono delle idee diverse è importante che poi c'è lo stesso tipo di rispetto e si trovano sempre dei punti di congiunzione per portare avanti quello che è il ruolo del Consiglio Comunale. Non c'è scollamento, è sicuramente un gruppo nuovo, un gruppo fatto anche nella maggior parte dei casi da consiglieri nuovi che comunque devono trovare il giusto equilibrio e quindi il giusto rodaggio, ma io ritengo che non ci sia alcun tipo di scollamento. Ci sono sicuramente delle differenze caratteriali di approccio, ma non parlerei di scollamento.